Le nostre sensazioni sono state quelle innanzitutto di impotenza, di ritrovarci davanti ad una situazione purtroppo ahimè già affrontata in passato, dove nonostante tutti i nostri sforzi, nonostante aver rispettato sempre le regole, nonostante dopo aver anche messo di più rispetto a quello che ci veniva chiesto, ci ritroviamo di fronte ad una ennesima chiusura. Il mini lockdown si abbatte anche sulle palestre alle quali era stata data una settimana di prova, ora si sentono penalizzati. E' l'effetto della chiusura obbligatoria contenuta nell'ultimo DPCM firmato dal Premier Conte. Il Governo ha promesso ingenti contributi a fondo perduto, ma la nuova misura non trova d'accordo tanti imprenditori. Dall'inizio di questa emergenza abbiamo puntato a metterci appunto in regola con tutto, assolutamente tutto, persone attenzionate in maniera quasi maniacale dall'ingresso fin tutto il loro percorso e infatti mai mai si è registrato un focolaio in palestra, men che meno qui nella palestra passa l'acqua, si può dire che siamo produttori di salute. Abbiamo speso circa 800 euro al mese per garantire il rispetto delle norme anticontagio, ci racconta il titolare. Dalla sanificazione dei locali ai pannelli in plexiglass, dai gel igienizzanti fino ai rotoli di carta. Ora però dobbiamo cercare di tutelare le 15 persone che collaboravano con noi e che non possono usufruire della cassa integrazione. Si spera in un aiuto del governo, tra l'altro c'è ancora da percepire l'indennità di giugno, quindi non so in che tempi e termini saranno percepite quelle successive. Le promesse sono tante ma poi i fatti concreti, ahimè, sono purtroppo pochi. Rimarrete fermi in queste 3-4 settimane o comunque organizzerete qualcosa? Abbiamo già trascorso tutta la mattina a comunicare con i nostri tesserati, nessuno di loro perderà nulla, nessuno di loro perderà un giorno di benessere di movimento e noi punteremo a farci sentire presenti con loro, con i nostri canali social, le nostre iniziative, in maniera assolutamente puntuale e programmata per tutto questo periodo, tutte queste settimane. Grazie 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 Grazie